In un certo senso sposarsi è la cosa più normale di questo mondo, la cosa più naturale tra un uomo e una donna. E credo sia importante riconoscere il valore di questa scelta oggi. Ma direi che siamo pronti, anzi no, bacchi i cuori sì. Un orgoglio davvero dal profondo del cuore, i sogni, i progetti possano realizzarsi. I film dei vostri ricordi più belli non smetteranno mai di emozionarvi. Francioso Studios, un istante per sempre. Francioso.it